Quando si è trovato davanti al Gup Santi Bologna che lo ha interrogato, il mussomalese Salvatore Piazza, 37 anni con diversi precedenti alle spalle, ha ammesso di tenere in casa oltre due chili di hashish sia per uso personale che per rivenderlo. Per il presunto pusher si sono dunque aperte le porte del carcere, in quanto sul suo capo pende l'accusa di spaccio di stupefacenti. La misura è stata applicata dal giudice per le indagini preliminari subito dopo l'udienza di convalida successiva all'arresto del 37enne, eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Mussomeli. I militari dell'arma nel corso di un controllo in casa di piazza hanno trovato complessivamente due chili e 335 grammi di hashish, custoditi in quattro bottiglie di plastica. Una parte era già stata suddivisa in 160 dosi e il resto in 22 panetti avvolti nel cellofan. L'indagato aveva scogitato uno stratagemma per nascondere la droga, avendo inserito le bottiglie con all'interno la sostanza all'interno della canna fumaria. Nel corso del controllo gli investigatori hanno però notato un filo di uncino sporgere dall'estremità della medesima canna fumaria e quindi hanno deciso di vederci chiaro, trovando poi lo stupefacente. Una volta capito di essere stato scoperto, piazza ha consegnato spontaneamente ai carabinieri il bilancino di precisione che teneva nascosto dietro il proprio televisore. L'avvocato difensore Agatha Mayra valuterà ora se presentare richieste per la concessione di misure alternative.